Ciao, sono Luca Manelli e in questo breve video voglio parlarti delle opzioni visualizzazione a video. Le puoi trovare nel menu visualizza, la voce opzioni visualizzazione a video. Puoi vedere che si apre un menu dove hai una serie di elementi che puoi attivare o non attivare. Quelli attivi sono quelli che hanno questo spunto di fianco al nome, quelli non attivi sono quelli a cui manca lo spunto. Puoi richiamare eventualmente anche dal menu finestra e barra strumenti, la barra strumenti opzioni visualizzazione a video in maniera tale da poter attivare o non attivare le opzioni direttamente facendo clic su i pulsanti. Le opzioni visualizzazione a video sono delle opzioni che ti permettono di visualizzare all'interno del tuo disegno Archicad delle caratteristiche degli elementi. Sono delle visualizzazioni a video per cui non le vedrai stampa e possono esserti utili nel tuo lavoro. Vediamone alcune poi ti consiglio di andare a sperimentare, a vedere quali sono le opzioni che possono esserti più utili nel tuo lavoro. Tra queste sicuramente troviamo molto utile la possibilità di visualizzare o meno le linee di riferimento muri e travi. Se io le vado ad attivare puoi vedere che all'interno del disegno vengono visualizzate le linee di riferimento e con la linea di riferimento, che è questa linea spessa all'interno del muro o all'interno della trave, viene evidenziato il verso di tracciamento. Il verso di tracciamento può risultare particolarmente comodo per l'inserimento di porta e finestre andando scegliere il lato 1 oppure il lato 2. Su questo argomento ho fatto un video, lo puoi trovare sul mio canale. Hai la possibilità per quanto riguarda sempre le linee di riferimento di andare a attivare magari quella delle scale, anche in questo caso particolarmente utile perché ti permette di vedere il verso di tracciamento della scala e la linea base che ti permette di effettuare delle editazioni. Stessa identica cosa per quanto riguarda magari anche il parapetto, come puoi vedere all'interno del disegno. Un'altra opzione sicuramente particolarmente comoda è quella di poter visualizzare gli spessori reali delle penne. Se vado ad attivare all'interno del disegno posso vedere tutti gli spessori delle penne così come sono impostati all'interno dei set di penne. Questo può essere interessante come preview prima di andare a stampare utilizzando gli spessori. Abbiamo anche un'opzione particolarmente utile quando vai a impaginare i disegni all'interno del layout. Infatti come puoi vedere i miei disegni ora non hanno il contorno che visivamente magari può essere fastidioso. Questa è un'opzione, infatti se io la vado ad attivare puoi vedere che intorno a tutti i disegni impaginati viene inserito il contorno che poi è il contorno che ti permette di andare a modificare il dimensionamento del disegno all'interno della tavola, se vado a disattivarlo il contorno viene disattivato e vedi la tavola così come poi verrà stampata. Sempre rimanendo all'interno del layout abbiamo un'opzione che ci permette di mostrare gli elementi che sono disegnati sul master layout oppure di non mostrarli all'interno del layout. In questo caso è attivo per cui vedo la squadratura e il cartiglio che sono disegnati nel master. Nel caso in cui vado a disattivare puoi vedere che la tavola rimane pulita e non vengono visualizzati gli elementi del master. Ecco queste erano alcune delle opzioni di visualizzazione a video che hai la possibilità di attivare o non attivare nel tuo lavoro. Come ti dicevo prima ti consiglio di andare a provare per vedere quali possono essere più utili a te nella tua operatività con Archicad.